Conquistate gli obiettivi. 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 Quistate gli obiettivi. in arrivo. Missile Airstorm alleato in arrivo. Abbiamo preso la bandiera nemica. RCX-D in arrivo. Abbiamo la bandiera nemica. Colpo fulminante alleato in arrivo. Controllate il tempo. Abbiamo preso la bandiera nemica. La bandiera nemica è nostra. Missile Airstorm alleato in arrivo. Abbiamo catturato la bandiera nemica. Sì, bel lavoro. Preparatevi al prossimo round. Cattura la bandiera. Catturate gli obiettivi. Abbiamo la bandiera nemica. Macchina di guerra in azione. Stiamo vincendo lo scontro. Abbiamo la bandiera nemica. Drone di scorta in arrivo. Un cecchino a terra! Colpo fulminante alleato in arrivo. La bandiera nemica è nostra. necchino a terra! Muoversi! RCX-D disponibile. Missile Airstorm in arrivo. Missile Airstorm pronto. Colpo fulminante pronto. Posizione raggiunta. La bandiera nemica è nostra. Coordinate colpo fulminante ricevute. Signore effetto negativo. La nostra bandiera è stata presa. Missile Airstorm alleato in arrivo. La nostra bandiera è a terra. Bandiera nella nostra base. Abbiamo la bandiera nemica. Missile Airstorm in arrivo. RCX-D in arrivo. Abbiamo catturato la bandiera nemica. Abbiamo catturato la bandiera nemica. La bandiera nemica è nostra. Colpo fulminante alleato in arrivo. Abbiamo catturato la bandiera nemica. Abbiamo la bandiera nemica. Abbiamo catturato 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 la bandiera nemica. Missile Hellstorm in attesa di ordini Colpo fulminante pronto Abbiamo la bandiera nemica Ordinate colpo fulminante raggiungere Abbiamo preso la bandiera nemica La bandiera nemica è nostra Missile Hellstorm in arrivo Abbiamo preso la bandiera nemica RCXD alleato in arrivo La bandiera nemica è nostra Il tempo è quasi scaduto Abbiamo preso la bandiera nemica La bandiera nemica è nostra Coordinate colpo fulminante raggiungere In arrivo Missile Hellstorm in arrivo Abbiamo preso la bandiera nemica è nostra Grazie a tutti Grazie a tutti.